I soccorritori hanno ripreso le ricerche della squadra di calcio bloccata da ormai sei giorni in una grotta in Thailandia. Sono 12 ragazzi dagli 11 ai 16 anni e il loro allenatore intrappolati in una delle camere di questa rete di cunicoli che si estende per chilometri e chilometri sottoterra. Le ricerche si erano interrotte a causa delle piogge torrenziali che stanno inondando le gallerie. Ora i soccorritori aiutati da soldati americani e da un team di sommozzatori britannici stanno valutando di aprire una fenditura nella montagna per provare a raggiungere i ragazzi da un'altra posizione. Sul luogo è andato in visita anche il premier tailandese che ha spiegato quanto siano importanti le operazioni di drenaggio dell'acqua e si è augurato una tregua della pioggia.